L'errore di Alimov E' stato un'esplante, quindi sono davvero felice Atenzione a questo scambio perché c'è il primo match point che mette a segno di Alloyho 21.10.52 È stato difficile e molto lungo, ma sono molto felice di vincere qui. Non c'è nulla modo per esprimere le mie emozioni, perché è stata la prima volta che ho vinto un torneo come questo, e è stato molto importante per me. L'indica Islami, tre medaglie d'oro per l'Indonesia. 21-19 e 21-15, il finale con il quale il doppio femminile laurea la coppiata Bandaso, per l'Indonesia. È stato una giusta per l'Indonesia. Si può giocare con il buon, è un po' difficile, ma è un po' difficile. È un po' difficile, perché è un po' fortale. L'attacco di Saputra. Ancora un attacco, signori, incredibile. Kumara e Saputra, dopo un match interminabile, chiudono sul 22-20, quest'ultimo grande e spettacolare match di doppio maschile. e non c'era modo migliore per far calare il sipario su questa manifestazione. Il Sidor 275 è un po' difficile, ma è un po' difficile. Il fatto di spettacolare, chiudono... E' un po' difficile, ma è un po' difficile. Grazie a tutti.